Divertente oggi, ho letto un giornale per darvi il senso di queste nostre tre prime serate, un giornale che non legge nessuno, clandestino, che si apriva comunicazione, cioè è il foglio onanistico che leggono i giornalisti, quindi tra di loro si raccontano e dicono che Porro con Matrix è stato un disastro, un flop, un fallimento in queste tre prime serate. Questi signori non si sono resi conto che Matrix, non Porro, in queste tre prime serate ha fatto tre puntate che hanno rappresentato i tre risultati più alti delle prime talk show politici in prima serata di tutti i canali televisivi. E la cosa straordinaria è che mentre dicono che il nostro, non so, 8,5% è un flop, dall'altra parte dicono che il 6% di formigli non è buono, è straordinario! Allora io adoro questi amici di prima comunicazione che, stando in un foglio clandestino per addetti ai lavori, non hanno altro godimento che avercela con quelli che non sono di sinistra come loro, come il 90% dei giornalisti che parlano dei giornalisti, che già di per sé è un'attività da pipparoli, quella di questi di prima comunicazione sono di quelli, sono adolescenti di 13 anni che hanno iniziato a scoprire il sesso da poco. Bene, io direi con quest'ultimo sassolino che mi sono tolto, altro che sassolino, di questi cretini che mi sono tolto, vi do appuntamento a questa sera alle 23.30 e me ne sbatto, sbatto delle critiche su una settimana che invece è stata favolosa per noi di Matrix, perché abbiamo potuto fare tre puntate in prima serata Canale 5 con la politica e questa sera un'altra lunga diretta che secondo noi, di tutti noi che lavoriamo a Matrix, è una grande, enorme soddisfazione.